La prima cosa che farebbe se tornasse al governo? Mi avevo detto che avevi fatto per prima lo Jussoli. Io fossi lì faccio subito lo Jussoli. Dice contro gli italiani, dice no, lasci stare. Quindi io faccio lo Jussoli, dice è contrario l'80% degli italiani. Non me ne frega assolutamente niente. Però è coerente.